La Regione Campania dichiara guerra al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi, investimenti per 24 milioni e 200 mila euro, di cui 10 milioni a valere sui fondi di rotazione rappresentano l'arma che l'ente di Santa Lucia mette in campo per la terra dei fuochi. La delibera annunciata in aula dal Vice Presidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola, chi ha la delega all'ambiente, è pubblicata sull'ultimo numero del BURC. La prima prevede sale operative presso presidi dedicati a Giuliano nel Napoletano, Mondragone nel Casertano e nell'area vesuviana. E ancora è prevista una piattaforma per l'ite di raccolta e condivisione dei dati. L'azione 2 riguarda il rilevamento dei rifiuti abbandonati, videosorveglianza con impianti fissi, monitoraggio aereo attraverso droni, monitoraggio a terra, sostegno dell'attività di segnalazione da parte dei cittadini. Lo spegnimento dei roghi è contenuto nell'azione 3 del piano e prevede pronto intervento, gestione dei rifiuti combusti in conformità alla linea guida dell'ARPAC. L'azione 4 prevede la rimozione del trasporto dei rifiuti abbandonati, a cominciare da un accordo quadro tra regione, province, città metropolitana di Napoli, enti proprietari o gestori di strade pubbliche. L'azione prevede prima la selezione, l'imballaggio dei rifiuti, il trasporto, dai luoghi di prelevamento ai centri dedicati di raccolto oppure agli stir, in caso di rifiuti solidi urbani e assimilati. La rimozione dei rifiuti abbandonati su aree demaniali regionali e nei corpi idrici sono un elemento al centro dell'azione. Infine, il punto 5 prevede la realizzazione di centri di raccolta e primo trattamento con il censimento dei siti e l'individuazione dei centri di raccolta e la progettazione, la realizzazione e l'allestimento di nuovi siti dedicati a categorie omogenee di rifiuti. Nonostante la diminuzione di incendi di rifiuti dai 3.000 episodi del 2012 nel periodo gennaio-agosto ai 1.300 del 2016, nello stesso periodo è stato ritenuto necessario intervenire sul versante della prevenzione del fenomeno della repressione e della rimozione dei rifiuti abbandonati. In base alla delibera per la rimozione dei rifiuti e messa in sicurezza vengono delineati i contenuti di un accordo quadro da sottoscrivere tra i vari enti coinvolti regione, provincia, città metropolitana di Napoli e comuni per disciplinare le rispettive competenze. Grazie.